ecco qua ragazzi allora questo qua è il mini crash il fratellino dei mini ciccioli è sistemato un po alla casus e allora adesso vi faccio vedere il mini dio mio anche il mini crash che sono ugualissimi al mini cicciolo questi qua sono i mini crash che ho spostato e quindi ce ne stanno di meno ma fa che è bello stui ok qua è sempre la cosa di prima c'è la polpere perché è nata pocansi dio mio pocansi ok perché sto canna deve bollire quando faccio i video dio mio ok e sono uguali ai mini ciccioli come dicevo al sir perché sono al contrario messi giustamente allora aspettate un attimo di giro non facciamo questi come prima ok allora sono uguali adesso gli andiamo ad analizzeri la finiamo allora allora questo qua è il mini cicciolo mini cicciolo e quindi e questo qua è il mini crash mini crash allora vediamo il retro allora il retro è ugualissimo è uguale ragazzi non mi fa vedere eh no non si vede vabbè comunque il retro è uguale è chiuso però sapete non è chiuso ermeticamente questa webcam non è fatta per registrare vabbè allora analizziamo la micciola e beh la miccia è uguale ugualissima quindi sono due mini ciccioli completamente uguali costano 99 centesimi e 1 euro perché costa un centesimo in meno se ce ne sono 10 in più perché questo qua faccio da 40 aspetta e adesso qual era il mini cicciolo e qual era il mini crash vabbè ma adesso se riesco a richiuderlo dio mio non è caduto l'accendino standufolo vabbè allora questo qua ha 40 pezzi e mi ha pagato 1 euro one invece questo qua ne ha 50 però se riesco a chiuderlo non fa così guarda un po' è al contrario ok diamo un po' metti a fuoco dio mio adesso lo metto a fuoco niente non ce la fa mettere a fuoco ma perché deve essere così aspetta un attimo ah ma è proprio sfocato da qua è sfocato da qua non è la telecamera vedi è sfocato dal disegno cioè dalla stampa eh perché scusa vedi eh no è dal disegno vabbè comunque è 0,5 però questo qua 0,07 dov'è ok 0,07 per 50 0,07 minicrash minicrash costati 99 questo 1 euro e ce ne sono di meno aspetta che non lo faccio così ok dio mio la polvere ok e questo qua come vedete qua 0,5 1 euro 0,5 per 40 invece i minicrash 50 sono la stessa cosa ma aspetta un attimo questo qua mi sembra è un altro materiale adesso che lo vedo bene è un altro materiale perché allora questo qua dovrebbe essere il minicicciolo c'è dei tipo delle cosine bianche vedi non è tutto rosso vedi c'è delle cosine bianche invece questo qua ha molti di me è più liscio questo qua è più liscio e non ha le cose bianche invece questo qua ce la vedi c'ha delle cosine bianche invece questo qui non ce l'ha vediamo se si vede nella webcam eh vedi non rende bene allora non facciamo andare a contatto le le due micce sennò ancora fa una scendilla e scoppiano tanto 0,5 0 però aspetta un attimo il peso pesa più questo del minicicicciolo perché pesa di più è vero ma pesa più questo qua del minicicciolo minicrash non lo so ragazzi costa un centesimo di più e sono uguali cambia solo un po' questo qua è più ruvido quello del minicicciolo invece questo qua è più liscio e non ha le cosine bianche che cambia forse il materiale dentro invece ok questo qua del minicash c'ha no hanno tutte e due il gesso vedi che è antico come la sinale invece di dietro è chiuso ermeticamente non so perché si ha chiuso ermeticamente così vabbè di solito mettevano li chiudevano cioè mettevano solo il gesso invece a sto giro vabbè comunque questi qua pagati 99 e questi 1 euro adesso facciamo rivedere questi qua sono più lisci invece questi qua sono ingrippati vedi è più scuro ah è vero aspetta un attimo è più scuro e non si vede bene aspetta adesso vediamo 2 1 1 2 due ma perché scusami li hanno invertiti vediamo adesso dio mio il flippering vabbè li hanno invertiti come vabbè li hanno invertiti come... allora questi qua sono più lisci invece di essi qua sono un più ruvidi dio mio però non so perché allora questi qua sono più chiari non so se si vede nella webcam Adesso prendo quello più chiaro Dio mio Ma questo non si usa Questo qua E' più chiaro Questi qua invece No aspetta Questi qua sono più rossi Vedi? Non so se rende bene Questi qua sono più Questi qua Magari non si capisce Sono più accesi Questi qua invece Sono più rossi E non rende bene nella webcam Vabbè raga Comunque questi qua Era il mini crash E alla fine sono uguali Ugualissimi Cambia poco nulla Cambia solo se Qua era schieto Qua è più liscio Vabbè E questi qua Erano il mini crash Che se volete Cazzeggiare Vanno bene Ma Non vanno bene Se volete i petardi grossi Comunque prendono Petardi molto più grossi Questi qua Ovviamente Legali Con la miccia Perché tanto La miccia E' più sicura Della capocchiera Della Così come Della capocchiera Lì come la chiamai tu Perché tu Quando scoppi il petardo La miccia La 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 Vedi che diminuisce Nel caso Che sei scemo Dici E diminuisce Con la capocchiera Invece Cioè Non sai Quando esplore Quindi Andevitare E' meglio prenderci Adesso Non li fanno più Quelli con La capocchiera Ma si trovano E si possono trovare Però io Andevitare Prendo solo Questi qua Con la miccia Tanto Non vuol dire Miccia Meno potenza E no Non vuol dire nulla Capite che quelli di una volta Li piacevano bene Questi qua Sono fatti col culo Ma Vabbè ragazzi Questo qua E' un video Un altro video Di questi tre video Che ho fatto Oggi pomeriggio Mendole Non so che ho detto Vabbè E niente Questa qua E' la recensione Che è Sono mini ciccioli Mini crash Si è scassata La cosa Perché poi c'erano Li scotch Ho dovuto sapparli Non sapevo Se no E niente E riva Lasciate il like Per supportarmi L'escrizione Dio mio Qua devono essere sempre Casini E i rumori E niente E breve video Per tipi Mini crash Che Per cazzo Già va bene Ciao gatti Ciao gatti